Abel, Bolin, non si può combattere il governo della città, tasse sicure come la morte, non si parla di politico o di religione, questo è l'equivalente della propaganda nemica scandita a voce alta dai picchetti, arrenditi soldato, arrenditi soldato, arrenditi guerriere, a questo ci ha abituato il ventesimo secolo, ma adesso nel ventunesimo secolo è ora di alzarsi e capire che non dobbiamo farci ammassare in questa trappola per topi, non dobbiamo sottometterci alla disunomizzazione, non so voi ma a me preoccupa quello che sta succedendo nel mondo, mi preoccupa molto la struttura, mi preoccupa molto i sistemi di controllo, quelli che controllano la mia vita e quelli che vogliono controllarla ancora di più, io voglio la libertà, questo voglio e anche voi dovreste volerla, ognuno di noi deve assolutamente sbarazzarsi dell'avidità, dell'odio, dell'invidia e anche dell'insicurezza perché questo è il modo in cui ci controllano, ci fanno sentire patetici, piccoli, di modo che spontaneamente cediamo la nostra sovranità, la nostra libertà, il nostro destino, dobbiamo assolutamente capire che finora siamo stati condizionati a livello di massa e sfidare lo stato schiavo delle multinazionali, il ventunesimo secolo sarà un secolo nuovo e non il secolo dello schiavismo, non il secolo delle menzogne né delle questioni rilevanti del classismo, dello statalismo e di altri metodi di controllo, sarà l'era in cui l'umanità intera si batterà per qualcosa di puro, per qualcosa di giusto, sono solo idiozie, i liberal democratici, i republican conservatori, li hanno creati per controllarvi, due facce della stessa medaglia, due gruppi menageriali che si contendono la poltrona di presidente della scavito SPA, la verità è lì davanti ai vostri occhi, ma loro vi offrono un buffet di bugie, io sono stufo di tutto questo e non ne assaggerò un solo boccone, capito? Resistere non è inutile, alla fine vinceremo questa battaglia, l'umanità è troppo forte, non siamo un mucchio di mezze cartucce, per questo ci batteremo e alla fine saremo esseri umani, ci esalteremo per tutte le cose vere, per le cose che valgono, per la creatività, per lo spirito, per l'essere umano che rifiuta di sottomettersi, è tutto quello che avevo da dirvi, adesso tocca a voi, see you later, alligator.